Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 come tutte le mattine dal lunedì al sabato alle 7 e mezzo del mattino in diretta c'è la rassegna stampa, un occhio ai giornali che daremo tra pochissimo prima festeggiamo San Pio da Pietralcina, questo grande santo che in tanti hanno conosciuto e hanno avuto modo di conoscere quindi i santi dei nostri giorni il sole è sorto alle 6.55 e tramonterà alle 19.06 il tempo, vediamo il tempo, intanto anche oggi vedete alle 7 e mezzo sono 17 gradi 8 andiamo sul satellite un attimo perché oggi pomeriggio arriva la pioggia da oggi fino a venerdì sarà tanta acqua, tanta acqua soprattutto nella giornata di domani e devo dire insomma che la situazione non è un granché vi terremo aggiornati sulla possibilità di pioggia insistente che potrà causare anche qualche problemino nel senso che insomma quando piove tutti in una volta siamo abituati a parlare di bomba d'acqua, siamo abituati a parlare di torrenti quindi neanche fiumi ma di torrenti che esondano quindi insomma la situazione è un po' sotto controllo però ecco teniamola e vi terremo aggiornati su quello che succederà da oggi fino a venerdì allora intanto per la giornata odierna la protezione civile delle marche prevede un cielo parzialmente nuvoloso al mattino ma che poi peggiorerà con rovescio temporale dalle ore centrali nella seconda parte della giornata in spostamento da nord quindi dalla provincia di Pesero verso sud i venti sono moderati sud occidentale il mare da poco mosso a mosso per la giornata di domani giovedì 24 settembre vedete la pioggia insistente soprattutto nell'area settentrionale rovescio temporale sparsi anche di forte intensità che poi andranno ad attenuarsi nel pomeriggio in sensibile diminuzione la temperatura con venti moderati dai quadranti settentrionali il mare sarà mosso o molto mosso per la giornata di venerdì qui la protezione civile prevede tempo variabile in realtà le ultime proiezioni parlano di un tempo che ancora continuerà e persisterà con la pioggia lo vedremo meglio nei prossimi giorni fino a lunedì comunque sulle marche ci saranno condizioni di variabilità senza dice e scrive la protezione civile senza precipitazioni significative vedremo comunque intanto accontentiamoci della previsione per oggi e per domani adesso andiamo a leggere i giornali leggiamo i giornali cominciamo dal messaggero la pagina di Fano pagina di Fano apre sul caso Grizzly allora Grizzly lo ricordiamo per coloro che non avessero afferrato bene il problema allora vedete questa foto? Eccola qui è la sede del Grizzly Grizzly l'hanno chiamato così poteva chiamarsi in qualsiasi altro modo l'hanno chiamato Grizzly e quindi giornalisticamente diventa il caso Grizzly Grizzly è questo stabile al quale hanno dato questo nome dei giovani, dei ragazzi che a un certo punto vedendo questo stabile di proprietà dello Stato del demanio sfitto, libero senza nessuno dentro un bel giorno hanno deciso di occuparlo quindi dei giovani che vedendo questo spazio libero sono entrati dentro e solo sono occupati gli hanno dato un nome e l'hanno chiamato Grizzly adesso che cosa viene fuori? viene fuori che sabato sabato sera la guardia di finanza e i carabinieri sono andati sono andati a vedere quello che c'era dentro hanno fatto un controllo in realtà lo hanno fatto fino alla porta d'ingresso perché questi ragazzi di sinistra si sono messi con le braccia incrociate hanno impedito di far entrare le forze dell'ordine all'interno di questo stabile lo spazio, ripeto, è autogestito ecco, questo è quello che è successo da quel caso, quindi da quella sera dal momento in cui le forze dell'ordine non hanno potuto svolgere il loro compito il loro lavoro si è creato questo caso perché ovviamente è un caso grave molti dicono un caso grave di illegalità allora diventa un caso politico chiaramente è diventato un caso politico al quale in primis il sindaco di Fano Massimo Seri oggi ha risposto prima ci ha provato l'assessore che tra l'altro ha una delega pesante perché non è solo una delega così ma il delega alla legalità ok? lo stesso sindaco Massimo Seri all'inizio del suo mandato ha mostrato il braccialetto bianco perché? perché è uno credo sia l'unico sindaco delle Marche che ha il braccialetto bianco significa che è il braccialetto della legalità quindi adesso questa qui è una patata bollente che va gestita perché i ragazzi naturalmente non se ne vogliono andare vogliono rimanere lì sono stati difesi dai genitori dicono là dentro non succede niente di male tutto regolare però insomma le forze dell'ordine ce lo devono dire loro e non solo i genitori quindi caso Grisli non accettiamo lezioni di legalità da nessuno così dice il sindaco se prima non si sono avuti controlli e verifiche immaginiamo sia perché non sono stati ritenuti necessari un po' deboluccia come cosa in realtà doveva essere fatto anche prima chiaramente anche perché una volta che dentro si appura che non c'è nulla di illegale insomma comunque si sta tutti quanti più tranquilli anche se ripeto non credo che succeda nulla di illegale però lo devono dire le forze dell'ordine se riattacca l'opposizione difende l'operato del comune non può essere chiamato in causa lo stabile ancora proprietà del demagno quindi dello Stato l'unico competente a chiedere un intervento poi vedremo anche cosa dice il centro-destra il centro-destra dice se là dentro al posto di quelli di sinistra ci fossero stati per esempio quelli di Forza Nuova che sono di estrema destra a quest'ora probabilmente sarebbero stati fatti fuochi e fiamme e sarebbero arrivati pure con gli elicotteri questo è il pensiero del centro-destra lo vedremo tra un attimo sugli altri quotidiani sempre sul messaggero la pagina dedicata a Fano il riconoscimento a Lella Costa l'attrice il premio Ol'Africa nel cuore Lella Costa non ha bisogno di presentazione la sua brillante carriera sui palcoscenici italiani l'ha resa una vera e propria icona del teatro a lei verrà segnato appunto il premio Ol'Africa nel cuore domenica 27 settembre alle ore 17 nell'auditorium Sant'Arcangelo sotto il cecchi al comma in cassa un altro sì approvata dalla giunta la delibera che accoglie la richiesta dell'istituto agrario e poi un'etichetta trasparente a tutela dei consumatori c'è un appuntamento importante questa mattina alle 10 lo vedremo tra poco sul Corriere Adriatico Pesaro e Monbaroccio questa fusione il cammino della fusione comincia questa sera questa sera votano i due consigli comunali le maggioranze sono blindate ma le posizioni sono variegate soprattutto nelle opposizioni ci sono anche proteste in vista 5 Stelle Forza Italia sono contrarie a questa fusione altri devono ancora decidere febbre da referendum poi si rompe una condotta del Nerone e dai rubinetti esce Acqua Marrone un disagio che riguarda soprattutto gli abitanti di Urbana gli utenti sono stati avvisati nel pomeriggio e comunque cessata l'emergenza poi c'è stato un incontro anche dopo le scosse telluriche dopo il terremoto dei giorni scorsi la più forte è stata di 3.9 della scala Richter a Borgo Pace Sant'Angelo in Bando Mercatello sul Metauro c'è stato un vertice antisismico anche se la terra continua a tremare ma con una magnitudo sicuramente molto più bassa vicino ai due gradi insomma però c'è stato questo incontro e questo vertice per fare il punto della situazione poi dopo le parole del procuratore Palumbo si sono si sono hanno parlato il movimento possibile e SEL che sono concordi sull'allarme lanciato dal procuratore dice Palumbo ha ragione c'è un modello pesaro esiste un sistema fatto di corruttelle e di clientelismi che Ricci e Ceriscioli farebbero bene a non minimizzare poi sulla questione della CONFART nessun favore rateizzazione concessa grazie alla documentazione sono stati interrogati due funzionari di Equitalia oggi tocca ai cinque membri del consiglio di amministrazione sicurezza sulle strade si cambia ancora tolti i cordoli in cemento a Santa Maria delle Fabrecce hanno rovinato auto e non sono serviti a ridurre la velocità presto saranno sostituiti con dissuasori in gomma niente dunque autovelox fisso ma controlli extra dei vigili urbani Santa Marta all'opera invece la scuola Santa Marta per riaprire le aule andiamo adesso sull'altra pagina sulla pagina Marche del messaggero perché si parla delle liste di attesa anche oggi liste di attesa i chirurghi dicono non dimenticate chi attende un intervento chirurgico Tavio non si spostino risorse a discapito degli acuti Torrette Ceriscioli chiede a Galassi di lasciare lui invece per tutta risposta gli dice no io resto si spaccia per un carabiniere e truffa un anziano ha convinto il pensionato a consegnare ad un complice oltre 4.000 euro in contante successo ad un pensionato di 86 anni che risiede in via Giolitti a Pesaro la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico il clima è cambiato sviluppo lo sviluppo ora è possibile parla il presidente Cazziol di Marina dei Cesare il porto turistico che è fiducioso sul rilancio appunto della struttura i posti barca sono aumentati del 13% ora ci sono più sostegno da parte delle istituzioni e sintonia con gli operatori fondamentale è il dragaggio e la vera crisi per Marina dei Cesare scrive il Corriere è iniziata nel 2012 quando il governo Monti prese di mira fiscalmente proprio il settore della nautica in quell'occasione in quell'anno il porto turistico perse 60 posti barca riducendo il numero da 313 dell'anno precedente a 273 poi le cose naturalmente non migliorarono neanche negli anni seguenti e dai posti sugli yacht ai posti nella mensa dei poveri sotto sempre il Corriere di Fano festa dell'accoglienza a San Paterniano in un anno sono stati serviti quasi 34 mila pasti oggi si svolge a San Paterniano il tradizionale appuntamento di settembre nella Basilica e nello spazio conventuale per la festa dell'accoglienza organizzata dall'Opera Padre Pio il programma prevede alle 18.30 una messa con il Vescovo Trasarti poi una breve cerimonia di ringraziamento per tutti i benefattori per coloro che sostengono economicamente la struttura e poi all'evento un concerto del Coro Polifonico Malatestiano e del Coro Giovanile Incanto Malatestiano diretti dal maestro Francesco Santini dicevamo di questo importante appuntamento alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Fano alle 10 di questa mattina si tratta di un appuntamento per capire bene come leggere le etichette nei prodotti molti un tempo non le leggevano nemmeno oggi invece c'è più attenzione ebbene etichetta trasparente pianesiana tutto sulla genesi dei prodotti nella sede della Fondazione oggi convegno nazionale sul protocollo a cui hanno aderito 18 comuni della provincia tra cui c'è anche il comune di Fano perché pianesiana perché prende il nome da Mario Pianesi Pianesi che è il direttore l'ideatore il fondatore il presidente dell'associazione internazionale è un punto macrobiotico andiamo adesso sull'altra pagina di Fano invece del Corriere Adriatico anche qui se interviene sul Grisli lo spazio autogestito andrà al parco il sindaco annuncia il recupero dello stabile al passaggio dal De Magno per i ragazzi troveremo un'altra soluzione De Benedittis dice la vicenda del Grisli è un'esperienza da proseguire poi sempre sul Corriere Adriatico i partiti di destra insorgono sempre su questo argomento a tutela delle forze dell'ordine prima l'Italia rimprovera l'assessore con delega la legalità mascarina per il mancato applauso alla gestione accorta della tensione la lega invece con Paolini dice la resistenza è un pessimo esempio vi ho detto all'inizio di questa rassegna che i ragazzi si sono messi a braccia concerte insomma a braccia incrociate per dire qui non passa nessuno i giovani sabato sera per tre ore hanno impedito l'accesso a carabinieri e polizia per il controllo della NAS NAS è il nucleo antisofisticazione sempre sul Corriere ancora sotto altre notizie andiamo a vedere adesso invece l'altra pagina quella di Fano e Valle del Cesano da Mondolfo il comitato del non va bene niente raccolta dei rifiuti e le tariffe l'assessore Lucchetti respinge al mittente le accuse sui rincari siamo stati premiati come miglior comune delle marche per l'indice di buona gestione delle scorie urbane quindi risponde a chi dice sempre che non va bene nulla andiamo adesso per chiudere la nostra rassegna stampa sul resto del Carlino anzi no abbiamo altre due pagine del Corriere Adriatico intanto sulla sanità e l'inchiesta su Marche Nord Aldo Ricci che è il direttore generale rompe il silenzio indagini da noi sollecitate dice e rese possibile grazie alla nostra collaborazione con la Guardia di Finanza e la Procura Aldo Ricci fa riferimento a quella indagine che è scaturita e di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi di quei medici infermieri che andavano lavoravano anche privatamente anche negli orari in cui non lo dovevano fare insomma che timbravano il cartellino facevano meno ore addirittura qualcuno si faceva pagare gli straordinari poi lusso sotto lusso e grandi griff i progetti per il porto di Pesaro i nuovi titolari del cantiere navale pensano a ristorante e negozi tra gli interessati c'è anche il gruppo Rolex sotto invece sull'altra pagina del Corriere Adriatico buono il check up sul territorio Summit all'Unione Montana funziona l'apparato di intervento e sicurezza chiudiamo dicevo con il resto del Carlino la cronaca la figlia piange troppo e picchia la moglie la figlia piange troppo e lui l'uomo marito chiamiamolo così picchia la moglie arrestato un quarantenne per maltrattamenti si tratta di un peserese che è disoccupato e che ha preso a schiaffi la sua compagna che è finita all'ospedale la giovane mamma è finita almeno due volte al pronto soccorso per ecchimosi la bimba ha appena nove mesi e quindi a nove mesi siccome non riesce a parlare piange no? e quindi però vabbè bancarotta comfort interrogati per primi funzionari di Equitalia si contesta agli esattori di aver concesso troppo facilmente la reattizzazione dei debiti mentre la difesa dice come potevamo negare le rate essendo una direttiva ministeriale anti suicidi da Fano l'agrario già pronta la delibera stiamo parlando della scuola di Pesaro la sede centrale la vedete in questa immagine bella dall'alto che potrebbe avere una succursale a Fano pronta dunque la delibera Ancona dovrà concedere il comodato gratuito del CODMA a Rosciano di Fano ma tutte le parti concordano e poi sotto self service e raccolta differenziata si cambia parliamo di scuola nuovi servizi nelle comunali a tempo pieno ancora sul Grisli interviene il sindaco è un'area demaniale non accetto lezioni di legalità la polemica non si placca ci sarà una riunione in prefettura poi sempre sul caso Grisli perché difendiamo questo spazio la lettera è dei genitori dei ragazzi che stanno appunto all'interno del centro la rassegna stampa finisce qui vi ricordo che questa sera alle 20.45 circa dopo occhio alla notizia andrà in onda primo cittadino ma è un primo cittadino che facciamo per la prima volta dopo dieci anni che va in onda con il sindaco di Fano in versione Interland nel senso è una versione diversa da primo cittadino non ci sarà il sindaco di Fano bensì ci sarà il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi la tipologia del programma è la stessa il format è lo stesso cambierà naturalmente la durata non sarà di un'ora ma sarà di circa 20-30 minuti in questo spazio voi che abitate tutti i residenti tutti coloro che vogliono chiedere fare domande al sindaco di Cartoceto Enrico Rossi ecco qui il cartello che ricorda anche i modi che sono gli stessi per fare domande per mandare messaggi sms e anche whatsapp potete inviare le vostre richieste a questi numeri questa sera Enrico Rossi sarà nostro ospite nello studio della telegiornale subito dopo il TG in diretta e quindi vi aspettiamo intorno alle 20.45 appunto non ho altro da dirvi grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa buona giornata a tutti arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.